Salvini e Di Maio, secondo voi faranno il governo? Pare che si sono messi d'accordo, quanto sembra. Di Maio, Premier o Salvini, Premier? No, nessuno dei due. E quindi Giorgetti? Ci sarà qualcuno che è al posto suo. Ma l'Italia con questo governo Movimento 5 Stelle e Lega riuscirà a risalire la china? Vedere quello che fanno. Speriamo nel loro interesse. Ma anche nel nostro? No, non credo proprio. Perché non c'è più speranza per noi? Non lo so. Il governo secondo lei? Magari lo fanno, è buono. Si, va bene. Non cambierà l'Italia o... Mai, mai. Deve cambiare la testa degli italiani. Ma siccome gli italiani non cambieranno mai. La mentalità sì, deve cambiare. Quindi lo faranno? Ormai lo faranno questo governo. Sì, sì, sì. Salvini, Salvini. Salvini e Di Maio. Salvini, Di Maio, vicepresidente. Ma siete contenti? Certo, ormai sono tutto. Il Berluscon è all'opposizione. Parlarvi di politica, quindi va bene? No, 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 no. Noi, una piccola infarinatura di politica. Non parliamo di politica noi. Lo faranno il governo? Sì, ormai è cosa fatta, ormai. L'Italia con loro cambierà in bene o in peggio? Io mi auguro che ci sia una bella rivoluzione in atto, in essere, con questi due. Perché sono dai tempi della democrazia cristiana, sempre che promettono, ma non arriviamo a nessuna conclusione. Che ci sia una bella rivoluzione a livello culturale, a livello di tutto, diciamoci francamente.